Allora, buongiorno a tutti ragazzi, un breve videino perché stasera alle 19 avremo la prima live di questo nuovo anno 2023. Come sapete in questo periodo ho preferito riposarmi, fare un po' di digital detox, quindi mi avete visto pochissimo sui social. Ma adesso, dopo questo periodo di relax, bisogna ripartire con le live e ripartiremo a bomba. Di cosa parleremo stasera alle 19? Parleremo di un tema che certamente ha fatto passare un Natale pessimo a un sacco di famiglie, a tanti imprenditori, a tanti tecnici, il blocco praticamente totale dell'accessione dei crediti. Un tema così importante, meritavo un ospite altrettanto importante ed è per questa ragione che ho invitato in live l'ingegnere Domenico Passarella, che è uno dei membri del direttivo del comitato degli esodati. Di cosa parleremo stasera con Domenico? Parleremo innanzitutto della situazione delle tante famiglie che si trovano fuori casa, con i lavori bloccati e non sanno che cosa riserva loro il futuro, ma anche della situazione di tanti tecnici e imprese che hanno fatto lo sconto in fattura dei loro clienti e adesso si trovano sull'orlo del fallimento con veramente il rischio di far passare dall'altra parte la loro azienda. Si trovano con il cassetto fiscale pieno di crediti e non sanno veramente dove sbattere la testa. Ti mostreremo anche come il comitato degli esodati si sta muovendo per sensibilizzare governo, Parlamento, associazioni di categoria, ieri erano in Colcon, Adusbef e con l'associazione dei piccoli proprietari immobiliari, come stanno cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica e sulla base delle informazioni oggi disponibili e quindi cercheremo di darti il nostro personale parere, il nostro personale punto di vista su cosa possiamo attenderci dal prossimo futuro. Una cosa importante, fra qualche oretta pubblicheremo qua sul YouTube e sul gruppo Facebook, sulla pagina Facebook, il link alla live, è molto importante che lo condividi perché più persone vedono questa live, più persone saranno consapevoli di cosa sta realmente succedendo. Rischiamo veramente un dramma sociale, per cui insomma passo a parola appena vedi il link. Mi raccomando, un caro abbraccio, ci vediamo stasera alle 19 con l'ingegnere Domenico Passarella del Comitato degli Esodati. Un caro abbraccio, ciao.